Nonna Lina come stai? E' parecchio tempo che non ci sentiamo, vero? E come mai? E come mai? Che dici? Tu che ci dici? Ci vuoi dire qualcosa? Niente di straordinario. Sono andata giù a fare un servizio. Adesso sto salendo, con un altro poco scendiamo. Qualche proposta, qualche menù estivo che dici? La pasta fredda. La pasta fredda. Come la fai? Come si può fare la pasta fredda? Io la faccio con il pomodoro. Scaldo la pasta e la faccio raffreddare. Poi metto i pomodori, il tonno, un po' di cipolla e basta. E condisco. E questo è tutto? E' buono, con il tonno, i pomodori e la pasta fredda. Un po' di cipolla tagliata, con la cipollina piccolina e basta. E basta. Tu non l'hai mangiata, non è stata buona? Come no, certo. E poi qualche altra pietanza estiva? Ci sta il riso all'insalata pure buono. All'insalata lo stesso, si mette il tonno, i pomodori e pure un po' di sottacetti, no di sottacetti, di carote, di giardiniera. Pure nella pasta si può mettere la giardiniera. Ma dove la prendi? In quale giardino la prendi? E' quel bicchiere dove ci sta la carota, il cavolo. Allora, i sottacetti. Non sono sottacetti, sono giardiniere. Sono sottaciuti. Sottacetti. Sono giardiniere. Quindi la giardiniere, aspetta, ma che cos'è la giardiniere? La giardiniere è un po' di tutto, un po' di cavolo, carote, patate, non sottacetti, ma all'insalata. A me mi pare che la giardiniere è proprio una specie di cavofiore che si mette sottacetti piccolino. Non è lì, però mi ha spiegato in un video per dire qualche cosa. Un salato di riso, una pasta fredda. E che altro vuol dire? Non lo so, dicci qualche altra cosa. Che cosa ne pensi? La seppaggiorla, risa è patata. Lasciamo perdere la cucina. Lasciamo perdere la cucina. Vediamo un po', cosa ne pensi del Green Pass? Il Green Pass. E' importante il Green Pass. E che significa? Non senti la televisione? No, io poco la seguo. Il Green Pass. Che cos'è? Questo certificato verde che dobbiamo esibire per andare nei locali. No, non lo so veramente. Tu non ce l'hai, non ce l'hai, tu l'hai fatta la vaccinazione. L'hai fatta già il mese di aprile. Eh, lo so. Tu pure l'hai fatta. E certo che l'ho fatta. Tutte e due. E io pure. Allora, vabbè, un parere sul Green Pass non ce lo puoi dire, vabbè. E vabbè. E che ti devo dire? Poi ti preparo la cena. Vabbè, i fatti nostri non li raccontiamo. Vabbè. Non è che... Io volevo un parere... Vabbè. Così, sul... Sui menù vestiti e sul Green Pass. E sono gli argomenti più scottanti. Non mi va a preparare un panino. Più scottanti anche perché scotta. Scotta, il sole scotta. E vabbè. Vabbè, non alì. Salutiamo. Salutiamo i followers. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao, ciao. Ciao.